Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione Mamma mia ragazzi, oggi non vedo l'ora di fare questo video perché andremo a provare questi, io li chiamo tarallucci però ragazzi, sono dei tarallucci benefici e adesso ve ne parlerò nel dettaglio trovate questi prodotti sul sito di AS Food e come sempre avete il mio cance sconto che è Gera010 pesco proprio dal pallino di tutte le donne allora vi dico un attimo il marchio, il marchio è il gusto del benessere ho pescato il primo, come potete vedere sono proprio tipo dei mini tarallini eccoli qua e questo qui è decorativo snack a lampone sono dei superfood, hanno ovviamente anche il stesso tarallini al gusto del benessere sono dei prodotti comunque benefici che fanno bene al corpo ovviamente fanno bene se vengono utilizzati con la testa e con criterio volevo prima di iniziare comunque ad assaggiare il prodotto in sé e di illustrarvi il prodotto ma qui troverete tutto scritto ed è fantastica questa cosa e posso dire che il pack è bellissimo cioè raga il pack è troppo bello è ovviamente un prodotto 100% naturale a basso contenuto glicemico senza zuccheri aggiunti e il 20% di proteine qui vi dice proprio tutto superfood la cittina regolarizza le funzioni intestinali e la flora abateica quindi raga fantastica carbonato di calcio decongestivante combatte l'acidità flavonoidi drenante e diuretico indicato per la retrenzione idrica ricco di vitamina B, C, E, A, chetone e sali minerali con il piatto contenuto di addossidanti naturali e poi dice anche che è senza lattosio senza uova senza lievito e senza frutta a guscio una confezione e vi paragono che una confezione è uguale a 300 grammi di spremuta quindi raga veramente vi dà tanti benefici e dietro vi dice tutti gli ingredienti e poi sotto il titolo sta scritto mi ha assimilato giornalmente per più di mese il massimo contenuto di addossidanti naturali da oggi è possibile infatti abbiamo racchiuso tutto il potere della frutta del nostro snack il nutraceutico è funzionale no raga veramente infatti vi dice indicazioni per favorire l'efficacia assumere 30 grammi al giorno per un minimo di un mese no raga comunque io adoro e secondo me il gusto sarà buonissimo poi raga associare la frutta e anche questo potere comunque benefico per il nostro corpo a dei tarallini dei tarallini non ci avrei mai pensato quindi fantastica sta cosa e vi dice anche che per confezione quindi per 100 grammi ha 312 calorie grassi 8,5 carboidrati 39 grammi di cui zuccheri 1,8 fibre 7,9 e proteine 20 grammi ovviamente loro vi dicono di utilizzarne 30 grammi ma poi raga potete anche utilizzare 20 grammi cioè raga voi lo dovete sapere voi però comunque è un trattamento che secondo me è buono fare io non vorrei rompere niente ma l'occhiatore di lampone si presentano così è buono raga questi sono troppo buoni raga associare un prodotto così che si sa noi tarallini sono sempre un po' una cioè tarallini solito uno evita sempre di mangiare però associare una cosa buona perché raga che non piacciono ad una cosa anche benefica per il corpo cioè raga secondo me questa cosa è fenomenale poi sono buoni ragazzi sono troppo buoni ragazzi sono buoni dentro raga vi dice proprio che c'è la farina di frumento infatti si sente integrale farina di ceci concentrato di lampone vino bianco l'extravergine d'oliva cioè dietro veramente vi dice tutto mi dispiace di aver rotto tutta la confezione però vado a posarla bevo e andiamo avanti questi prodotti costano 4 euro 3,50 non ricordo bene però raga basta che andate sul sito e vedete tutto però raga considerando il prodotto in sé posso dire che il prezzo comunque è ragionivo e ci sta allora sempre va bene il gusto del benessere questa volta ho preso questo qui difesa più snack al mirtillo eccolo qui sempre solidaposa 100% naturale senza zuccheri aggiunti 20% di proteine vegano e integrale superfood allora antocianine rafforzano il sistema immunitario e il respiratore acido citrico e ammalico antibatterico allevano i sintomi della cistite vitamina A protegge la struttura ossea la vista e la pelle ricco di vitamina C B1 B2 pippi ferro e sali minerali col più alto contenuto di antossidanti naturali non lattosio non uova non lievito e non frutta cuscio una confezione 300 grammi di spremuta mi sembra lo so capite cosa quella che fanno con gli spot pubblicitari ecco raga in questo momento mi sto sentendo proprio loro tra la gente che fanno i spot pubblicitari non so a fuoco in diretta comunque raga questo qui vi dice sempre la stessa cosa indicazioni per favorire l'efficacia assumere 30 grammi al giorno per un minimo di un mese per quanto riguarda la tabella nutrizionale è sempre la solita quindi vado avanti si presentano uguali molto friabili il mirtino ci sente tantissimo sovero che molti di voi compreranno quelli antiossidanti lo so però vi posso dire che anche questi al mirtillo sono molto buoni io ma questi li devo nascondere i bucatti i miei li fanno fuori il mirtillo si sente tantissimo di mirtillo poi si sposa da dio con la farina di frumento integrale la raga veramente buono devo dire che hanno usato pure una buona accoppiata perché l'integrale con lampone mirtillo secondo me valorizza no secondo me per me valorizza ancora di più il sapore della frutta quindi la raga questi sono dei prodotti per me a mia vita adesso vi parlo comunque è di sapore per non parlare comunque anche dei benefici che apportano questi prodotti comunque nel lungo periodo perché mi posso dire un giorno vedo i benefici no ma così tutto però vi posso dire che sono dei prodotti validi almeno il sapore è molto buono ovviamente bisogna vedere comunque il percorso di questi prodotti ma ovviamente raga questi prodotti vanno sempre ad associato come sempre anche ad una giusta alimentazione perché altrimenti non vedrete mai un beneficio ed anche specialmente anche quelli antiossidanti ma così che tutto anche con una giusta idratazione ci tengo a specificare questa cosa comunque raga prima non volevo dire antiossidante ma depurativo mi sono confusa però raga cosa è sempre chilo sempre solito discorso come prima sopra sempre facendo perciò naturale eccetera antiossidante snack alla melagrana e secondo me questi sono anch'essi molto buoni io adoro il melograno proprio in generale a parte proprio puri lampuri però io il melograno lo adoro un po' quei semini dentro una rottura però è buono allora superfood magnesio riduce la stanchezza e l'affaticamento quindi questo raga posso dire che secondo me è fantastico per me acidi grassi essenziali promuovono la rigenerazione cellulare acido e lagico regolarizza le funzionalità cardiovascolari ricco di vitamina C A E K proteine e sali minerali con il più alto continuo di adossidanti naturali una confezione in cui vale 300 grammi di spremuta sempre la stessa cosa la lattosio uovo lievito frutta guscio poi il titolo è sempre la stessa cosa il fatto dei 30 grammi e per quanto riguarda i valori alla fine siamo sempre lì sono un po' di fiori non è che abbiamo mangiato i fiori però per quello odori di fiori mi sembrano vabbè io ne ho buono però posso dire che mettiamo per un secondo i benefici lontani da questa recensione vi dico che io ho provato tutte e tre e tutte e tre hanno una consistenza diversa posso dire che questi qua sono molto più friabili sottili e friabili invece quelli lì al mirtillo tra tutti proprio per quanto riguarda ovviamente il sapore sono stati gli unici sono tutti buoni ma quelli al mirtillo sono stati gli unici proprio pazzeschi proprio come sapore perché erano molto più doppi molto più diciamo che si avvicinavano molto di più alla consistenza del taralluccio classico diciamo sempre a grandi linee però era quello che più c'entrava e poi il sapore era quello che più il sapore era molto più marcato si sentivano proprio i mirtilli si sentivano proprio i mirtilli quindi posso dire che trea come gusto come consistenza va al primo posto mirtillo però anche tutti gli altri sono buoni probabilmente tutti e tre sono veramente super buoni quindi voi in base al percorso che decidete di fare in base alle vostre esigenze così scegliete posso dire che il marchio è super super promosso io spero che questo video vi sia piaciuto e ne ci vediamo nel prossimo video ciao scusatemi ogni tanto il mio abbassamento di voce ma di qua fa troppo freddo ci vediamo Grazie a tutti.